Invece poi ci sono le caratteristiche estrinseche, ovvero il pianeta ha le giuste condizioni per poter sopravvivere per mediati di anni e poter ospitare la vita, però l'ambiente esterno non glielo permette. Infatti Venere oggi si trova al di fuori della zona abitabile del sistema. Come già accennato prima, all'inizio della sua storia il Sole era molto più freddo di oggi e quindi la zona abitabile del sistema solare comprendeva anche il pianeta Venere che gli ha permesso di avere un'evoluzione simile a quella del restere. Vediamo in dettaglio perché questo motivo. Quando il Sole era più giovane di oggi il suo nucleo interno, cioè il luogo dove avviene la fusione nucleare, era molto più grande. Questo gli permetteva di mantenere un equilibrio con la gravità consumando meno combustibile e quindi emetteva meno luce e calore. Man mano che il combustibile, cioè l'idrogeno, cominciava a diminuire, si era impicciolito il suo nucleo e quindi oggi il Sole ha un nucleo molto più piccolo. Per mantenersi in equilibrio deve consumare più idrogeno rispetto a prima e quindi oggi emette molto più calore. Il riscaldamento del Sole è stato dell'ordine del 10% per ogni miliardo di anni. A un certo punto la zona abitabile del sistema solare si è allontanata tanto da far sì che il pianeta Venere si trovi oggi al di fuori della sua influenza e quindi una volta che il pianeta si è trovato al di fuori della zona abitabile non è più riuscito a mantenere acqua liquida in superficie e i gas serra che non venivano più assorbiti dagli oceani ormai inesistenti hanno continuato ad accumularsi in atmosfera creando quello che è oggi un pianeta con effetto serra a valanga. Infatti se osserviamo l'atmosfera odierna di Venere vediamo che è molto più spessa di quella della Terra infatti la sua stratosfera arriva a 50-60 km sulla Terra solamente a 10 e vediamo che in questi primi 50 km che sono la sua troposfera ci sono enormi quantità di gas serra come anilicarbonica e acido sofforico che trattengono talmente tanto calore da mantenere la superficie del pianeta intorno ai 480-500 gradi. in modo uniforme su tutta la superficie dai poli all'equatore in queste condizioni ovviamente non può esserci acqua liquida, non ci possono essere oceani e quindi l'ambiente idoneo alla vita si è perduto Venere è diventato un pianeta infernale. Un altro fenomeno che è stato caso dal Sole è stato l'effetto mareale infatti più un oggetto è vicino a una stella è più risente della sua forza di gravità la forza di gravità del Sole ha avuto un effetto frenante sulla rotazione del pianeta e quindi Venere non solo è diventato molto caldo ma ha smesso di ruotare e questo ha indebolito moltissimo il meccanismo che genera il campo magnetico di un pianeta infatti in un pianeta roccioso non basta che il nucleo metallico sia liquido per generare campi magnetici ma deve anche essere in rotazione per generare quei modi convettivi che formano poi le correnti indotte però visto che Venere non ruota più come ruotava una volta nonostante le sue dimensioni ci suggeriscono che dovrebbe avere un nucleo interno fluido la mancanza della rotazione o comunque sia la debole rotazione impedisce ad esso di generare un campo magnetico e quindi non solo Venere subisce un effetto serra valanga ma i venti solari e le tempeste magnetiche vanno a erodere la sua atmosfera e l'acqua che era sotto forma di vapore acqua in atmosfera si è persa nello spazio durante queste raffiche di venti solari quindi oggi Venere subisce due conseguenze dovute al Sole l'effetto serra valanga e la perdita di rotazione e quindi la mancanza di un campo magnetico qui vediamo che Venere perde atmosfera continuamente nello spazio atmosfera che viene recuperata dalle attività vulcaniche ma che comunque subisce questa perdita invece la Terra essendo molto più lontana dal Sole ha subito molto meno l'effetto mareale quindi continua a ruotare molto velocemente, compie una rotazione in circa 24 ore conserva un campo magnetico molto potente che protegge la nostra atmosfera dai venti solari quindi anche qui abbiamo un altro caso qui vediamo bene in questa slide cosa è avvenuto su Venere abbiamo questo effetto serra a valanga abbiamo un campo magnetico inesistente e poi il vento solare che spazza via i gas più leggeri dell'atmosfera che sono l'idrogeno, l'elio e l'ossigeno idrogeno e ossigeno deriva dalla scomposizione delle molecole d'acqua che componevano gli oceani del passato dovuta alla reazione ad alta quota un semplice effetto fotochimico che ha contribuito a far disperdere l'acqua degli oceani venusiani nello spazio interplanetario però se noi osserviamo Venere vediamo il destino che attende la Terra infatti il Sole continua ancora oggi a surriscaldarsi del 10% ogni miliardo di anni e tra 2-3 miliardi di anni il destino terrestre sarà molto simile a quello venusiano qui vediamo le varie epoche geologiche del sistema solare vediamo che anche Venere aveva una temperatura che gli permetteva di ospitare acqua liquida in superficie quindi di avere un'idrosfera poi Venere è uscita da questa fase intorno ai 2 miliardi di anni fa quindi intorno ai 2 miliardi di anni fa Venere ha perso la sua idrosfera ed è diventato l'inferno che conosciamo oggi la Terra si trova in una condizione che gli permette di conservare la sua idrosfera ancora per molto tempo ma vediamo che già tra un miliardo o un miliardo e mezzo di anni il riscaldamento del Sole farà sì che la Terra uscirà dalla zona abitabile del sistema solare e anche sulla Terra avverrà un fenomeno simile ovvero l'idrosfera del pianeta, ovvero gli oceani, cominceranno a evaporare fino a creare un effetto serra-valanga perché il vapore acqueo è un potente gas a serra chi frequenta le saune lo sa bene e anche la Terra sarà destinata a diventare un pianeta inferno quindi vedete che la finestra di abitabilità di un pianeta non coincide mai con il periodo di esistenza del pianeta stesso ma sono delle condizioni che possono interessare più o meno una finestra temporale del ciclo vitale di esistenza del pianeta stesso nel nostro caso la finestra temporale è stata abbastanza grande ed è ancora abbastanza grande da permettere la vita complessa come la conosciamo noi ma nell'universo molto probabilmente la norma è avere pianeti che cominciano ad avere la vita possono anche ospitare per diverse aree geologiche colonie batteriche e poi si ritrovano in condizioni di inabitabilità questo è solamente un estratto della video lezione completa sulla vita o tra la Terra nella lezione completa parlerò della chimica della vita quindi vedremo le molecole e gli atomi che compongono la vita sulla Terra parlerò del caso Venere e del caso Marte e vedremo quali sono i candidati degli esistenzi già scoperti che possono ospitare la vita parlerò di questo e tanto altro ancora nella lezione completa la numero 10 del mio corso di astronomia vita o tra la Terra la potete trovare nel mio canale YouTube e nelle mie pagine Instagram e Facebook prof. Antonio Loiacono grazie